Monsignor Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta, è stato in visita ufficiale nel comune più popoloso della sua diocesi a Massafra. Ricevuto dal sindaco e dalle autorità cittadine, civili e militari, ha ricevuto il saluto e gli auguri di buon lavoro, il suo messaggio ai massafresi al microfono del TG Norba. È una realtà quindi grossa e importante a cui guardare con attenzione anche da parte della chiesa, del vescovo. La presenza della chiesa è già garantita da diversi sacerdoti che con le loro parrocchie, le loro comunità rendono un servizio e rendono viva la comunità cittadina. Certamente questo vorrà dire guardare con un occhio di particolare attenzione anche tutte quelle sono le problematiche che una città, come ha detto lei, di confine, ma sappiamo un confine verso la città di Taranto quindi con tutte le problematiche che sappiamo comporta e questo per quello che è compito della chiesa sarà sicuramente fatto con attenzione. Dopo il municipio, la piazza, l'incontro con i fedeli devoti in particolare alla Madonna della Scala che è proprio la Madonna a cui Monsignor Maniago ha reso omaggio per prima assumendo l'incarico pastorale. Infine con un breve tragitto in corteo la tappa nella chiesa madre nel cuore del centro storico.